In attesa dell'apertura dei nuovi punti di vaccinazione in modalità drive-in, cioè ai cui si accederà senza scendere dall'auto, sono partite in queste ore le somministrazioni per la fascia di età dai 60 ai 69 anni, il nuovo obiettivo dell'Ulss da completare il prima possibile. Per questi cittadini sono aperte sei linee vaccinali al Palangarano, ma si sta procedendo anche a Schio, un'accelerazione dovuta soprattutto al fatto che i vaccini stanno arrivando in notevole quantità. Già ieri abbiamo fatto 2.800 vaccinazioni, oggi ne prevediamo 4.000 e anche domani 4.000, quindi numeri consistenti che ci permettono di vaccinare il prima possibile tutta la popolazione. Aperte le prenotazioni fino al 18 maggio per chi ha dai 60 ai 69 anni, il consiglio è quello di farlo il prima possibile e ritentare se c'è qualche difficoltà a completare la procedura online o farsi aiutare nelle farmacie. Se queste vaccinazioni dovessero procedere velocemente, già da metà maggio si potrebbe addirittura aprire i 50 anni. Stiamo finendo la classe dai 70 ai 79 con l'aiuto dei medici e medicina generale, ma abbiamo aperto anche da oggi, giovedì, le vaccinazioni della classe dai 60 ai 69 anni. Non dimentichiamoci mai che è sempre possibile per i pazienti fragili o fragilissimi prenotarsi.